Vai, abbiamo preso due oggetti e la torre in faccia Fuffi, la regina dei gusci, prende il tram in faccia Prima ho preso la torre del castello Ed basta! No, no, sono a seconda! Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video Ragazzi, è un'eternità che non pubblico un video di Mario Kart sul canale Ma oggi torniamo alla grande con una sfida pazzesca Mario Kart solo con i gusci Quindi all'interno del circuito potremmo utilizzare solo i gusci E le monete perché quelle purtroppo non si possono togliere Quindi ragazzi, oggi ci prenderemo a colpi di gusci E sotto nei commenti consigliatemi un'altra sfida pazzesca da fare Quindi come sempre lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella Così vi arrivano le notifiche E seguitemi anche su Instagram Ragazzi, io scelgo il trofeo Crossing E iniziamo alla grande con la mappa di Animal Crossing Guardate che bella la mia Fuffi Con la sua nuova moto che ho sbloccato da poco Guardate che bella Ragazzi, siamo pronti Fuffi La regina dei gusci Sta per prendere a colpi di gusci tutti quanti Oddio, questa moto non la controllo molto bene È un po' molto, molto strana Oddio Forse non avrei dovuto prendere questa moto Però va bene, dai, volevo tanto, tanto provarla Strano, non mi è ancora arrivato un guscio di sopra Molto, molto strano Visto che comunque ho la modalità solo gusci Solitamente quando facciamo la Fuffo Cup Ecco Solitamente quando facciamo la Fuffo Cup Solitamente quando facciamo la Fuffo Cup Mi riempite piena di gusci E in questa modalità attualmente è nì Anche se adesso sto iniziando a parlare E mi state Mi stanno linciando, raga Quindi vi raccomando Sotto nei commenti scrivetemi qual è la prossima sfida da fare Se vi piace questo format con dei video particolari Allora, nel frattempo la nostra Fuffola sta al secondo posto Ma c'è questa che ha tre gusci Ora due, ora uno E adesso sono prima Ciao, spostati, bella Fai spazio alla vera regina dei gusci Uhuuu Solo che ho perso gli oggetti perché sono stata scema Alla faccia della regina dei gusci Ma momentaneamente manteniamo la nostra posizione Al primo posto Io Butto questa roba Così prendo altri gusci Oh no, non me l'aspettavo Ma comunque ragazzi Le monete sono scam Cioè Se io metto modalità solo gusci Perché mi fate uscire le monete? È scam Aiuto, 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 aiuto Vedete, vedete Questo gioco mi vuole fare perdere Oddio, me lo potevate dire che la mela era il turbo Non me l'aspettavo Avevo rimosso completamente questa cosa Eh no, dai Maledetti gusci Questa modalità è difficile ragazzi Perché Siete già preparati al fatto che Prima o poi Un guscio vi colpirà Vai Recuperiamo È l'ultimo giro? Ok Mamma mia è brutta qui È l'ultima zona che possiamo Vai, vai Possiamo recuperare Ci giochiamo il tutto per tutto Ragazzi Ci giochiamo il tutto per tutto No, ho sbagliato Ho preso il sasso No, vabbè Quarta, che schifo ragazzi No, vabbè Ma noi non ci arrendiamo E andiamo alla seconda corsa La nostra Fufi Regina dei gusci Vincerà Lei Questo torneo Sono quattro corse ragazzi Come al solito Quindi Ci giochiamo il tutto per tutto No, ho perso il guscio Mannaggia Se perdiamo l'oggetto Se perdiamo l'oggetto è la fine Se perdiamo un oggetto è la fine Fufi Mantiene la prima posizione Prende i due oggetti E dai Ti prego Non mi dare due monete Perché me ne vado Ok Questo guscio Lo utilizziamo per difenderci Però adesso siamo scoperti Dobbiamo Assolutamente Trovare altri due oggetti Mamma mia Quel guscio mi ha fatto la barba Raga Questo Mario è tosto Questo Mario è tosto Aiuto Comunque non riesco a controllare questa moto Ora sì Che si ragiona Vieni qua Mario La regina dei gusci Ha un regalino per te Giuro Non ti faranno male È come una carezza Ti è andata bene Mario E dai Ma le monete sono scam Raga Cioè queste monete Sono veramente scam Vai vai così Vai gira 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 Vai 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 Il segreto è derapare ragazzi Il segreto è derapare E dai Pure il guscio Ovviamente ragazzi Il guscio blu è un guscio Quindi fa parte della famiglia gusci E niente Quando prende un guscio Poi arrivano tutti gli altri Ma ancora La regina dei gusci Può rimontare Ora sì Che vi spacco in due Oh mamma Questo gliel'ha lanciato i quattro Mamma mia La cattiveria Aiuto Mamma mia Raga Non mi fate venire più Queste felici idee Di fare questi video Soprattutto con i gusci Nooo Una volta che si perde quota Comunque in questa modalità È difficile Recuperare Perché Non avendo turbi Non avendo Missili Che ti portano avanti Cioè puoi solo Prendere gusci E andare avanti Dai 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 Ragazzi 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 Superato anche Mario E si va in testa Forza così Fuffi Regina dei gusci Vai così Mi viene da dire Regina dei fuffi Però Fuffi Regina dei fuffi Non si può sentire La mia moto È pronta A farvi assaggiare I miei gusci Stolti Infami Ops Guarda un po' C'era un guscio Aiuto Guscio blu Vai così Guscio blu Falli fuori tutti Ammazza Delle family friendly E vai Fuffi Conquista Nuovamente Il primo posto Ma non si arrende Cerca di mantenere La posizione Queste monete Le odio Ragazzi Queste monete Vi giuro Che le odio Tantissimo Vai così Brava Ottima Questa curva L'abbiamo presa Alla grande Vai Abbiamo preso Due oggetti E la torre in faccia No comment Ottimo Bellissimo Abbiamo Mario Con tre gusci Verdi Però per fortuna I gusci verdi Non sono tanto Pericolosi Quelli rossi Sono quelli Pericolosi Ma noi Andiamo A prendere Due oggetti Dai dammi Questo bretto Guscio rosso No Mario Ha un guscio verde Non l'avevo visto E niente Ultimo giro Ci giochiamo Il tutto per tutto Soprattutto dobbiamo Superare Mario Perché abbiamo Più o meno Gli stessi punti Mario infame Ti vengo a prendere E basta Con ste monete Ragazzi Ogni volta Nello stesso punto Trovo sempre monete Gira 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 Fuffola Brava Brava Ok Dammi i gusci rossi No e basta Con ste gusci Oh Ma no Ok stavo Pensavo fosse caduto Invece ha preso la scorciatoia Ha un guscio dietro Dai Ok guscio blu Mi salva Che peccato Oh 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 Quanto mi dispiace La regina dei gusci Ragazzi Si classifica Nuovamente Al primo posto E va in testa Con 39 punti E Mario scende Scende Giù E al pari con baby Rosalinda Ma ragazzi ci giochiamo Il tutto per tutto In quest'ultima corsa Ok Vai così Ci dobbiamo classificare Almeno al secondo posto Però se arriviamo Primi Meglio ancora Oh yes Ora si ragiona Vai così Fuffi Comunque questa moto ragazzi Non riesco a controllarla Con queste ruote È proprio Pesante Mi fanno male i polsi Vai così Di nuovo primi No Perché fa le curve male No No Uscio blu Addio Mondo Crudele È sempre le monete Le monete inutili Vai 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 Fuffola Mamma mia Ragazzi Lo stavo prendendo in faccia Cerco di difendermi Con i miei gusci verdi Aia No Sbagliato È che non riesco a controllare bene la moto Quindi va un po' per i fatti suoi Ragazzi Vi giuro mi fa male il polso Perché faccio Pressione L'ho presa Non prendo mai nessuno con i gusci verdi E si va Si torna di nuovo Al primo posto Ragazzi Fuffi La regina dei gusci Prende il tram In faccia Prima ha preso L'attore del castello Ed basta No No Sono seconda È scam Ero seconda Il guscio doveva andare avanti Invece ha preso bene Questa Questa è scam Hanno pagato Hanno pagato il gioco Per farmi colpire Ed basta Con sti gusci No Ragazzi Mamma mia Ci hanno fregato Ci hanno fregato Ci hanno fregato All'ultimo Non ve lo permetterò Io sono l'unica In sola Regina Nei gusci Aiuto Ho preso una scorciata Bruttissima Terza 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 Meglio di niente Meglio di niente Meglio di niente Ragazzi Ora non so se mi hanno rubato La posizione Però vediamo Vediamo No No Fuffi Regina Dei gusci Prima Mamma mia Ragazzi All'ultimo è stata tosta Un applauso Me lo merito Un like Anche ragazzi E abbiamo anche sbloccato Un pezzo Per Vabbè Poi lo andiamo a vedere insieme Allora ragazzi Questa sfida finisce qui Fatemi sapere sotto nei commenti Qual è la prossima sfida Che volete vedere Su Mario Kart Come sempre Lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Vi ricordo che a breve Ci sarà La Fuffo Cup E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti